McDonald contro Burger King contro KFC Chi ottiene più soldi vincerà la sfida Ah Ninna, sai per quale motivo vincerò io oggi? Perché? Perché KFC, KFC, il pollo più buono lo trovi qui No, 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 ma ti mi dispiace McDonald, McDonald, la migliore scelta è Una sola Burger King, Burger King Sono molto meglio di massi Tranquilli, vincerò io questa sfida Buongiorno, cosa vorrebbe? Buongiorno, allora io vorrei ordinare un double cheeseburger E delle patatine per favore Un panino, ok E delle patatine? Eccole qua, ecco Gentilissima Sono 150 euro 150? Questi dovrebbero essere giusti Sì, sono giusti Va bene, grazie mille Arrivederci Dai, spostati che è il mio turno Buongiorno, cosa vorrebbe? Allora, io sono venuta solo per ordinare il toast speciale di Ninna e Matti Il toast speciale di Ninna e Matti? Ok, aspetta un attimo che lo vado a preparare Questa toast sarà fantastico Mettiamo un po' di Smarties Ok, mettiamo la corona Che ho fatto? Sono giusto 100 euro Va bene Però sono un po' tanti 100, 200 Grazie Arrivederci Arrivederci Quanti soldi Oh sì, vincerò io questa challenge Non vi do l'ora di mangiare Ma chi lo dice? È una fame assurda Vediamo questo toast speciale Ma guarda che bello Sopra appetitoso Sì, è stata bravissima Ma abbiamo cantato una canzone bellissima Perché sono andati dal Burger King? E poi avevo preparato tutti questi panini Guarda, guarda che belli Guarda E avevo anche la bibita speciale del KFC oggi Rossa come il mio ristorante Ah sì, e sai cosa avevo io? Oltre ai miei buonissimi panini e le patatine Leffi misi di Ninna e Matti Non ci posso credere Non è giusto che nessuno viene da noi però Batta, ho lavorato troppo Ora vado in pausa E ho guadagnato anche tanti soldi Non è possibile Non è possibile Io non posso accettare questa situazione Però forse posso fare qualcosa Per attirare qualche cliente Chiara non c'è Ninna Ho capito, ma forse è una cattiva idea Ma no, fidati di me Funzionerà Adesso mettiamo questo qui Eccolo qui Il Burger King è ufficialmente chiuso Così tutti i clienti verranno da noi E sai che ti dico? Questo panino me lo porto via io Forse siamo un po' cattivi Andiamo, andiamo Prima che ci scopra Farzatiotti Lasciate un mi piace E iscrivetevi al canale di Ninna e Matti Dai, fatelo ora 3, 2, 1 Bravissimi Ciao Signore e signori Venite Perché al KFC Oltre a regalarvi i panini Sto sparando le figurine Dobbiamo andare da lei Per forza Per forza Dai, cosi, cosi Ma non c'è nessuno Buffa Io pensavo che c'era una fila enorme Nessuno viene al Burger King Buffa Sono venuto solo quelle due persone Ma nessun altro Ora cosa posso fare? Non sta venendo nessuno al Burger King E io mi sto letteralmente annoiato Sono davvero contenta Io ho paura, guarda quante Adesso ordiniamo che ho molta fame Guarda che c'è Sì, sì Io voglio proprio il nuovo IP1000 di Ninna e Matti Oh sì Il nuovo IP1000 di Ninna e Matti è buonissimo In omaggio anche dei pacchetti di figurine Uhuh Ecco qua il panino E sono 150 euro Non è giusto Non è giusto Matti, dai Mi regalo anche a te due pacchetti Grazie Neanche mi hai fatto vedere le figurine L'album voi falsacchiotti lo trovate in edicola Mi raccomando, correte a prenderlo Grazie Finalmente sono entrata in gara Matti ancora a 0 euro Io sono a 150 E Chiara spero che sia a meno di me Va beh C'è qualcosa che non quadra Chiuso? Chi l'ha scritto chiuso? Ninna e Matti Fai finta di niente Chi ha scritto chiuso nel mio burgheting? Eh non lo so Forse sono stati clienti O forse sono stati ladri I ladri I ladri Saranno stati sicuramente loro Sì C'è qualcosa che non quadra Boh, io non lo so Avrete la mia vendetta Ciao Forse si è arrabbiata un po' Un po' rischiosa questa mossa Buongiorno Buongiorno, cosa volete ordinare? Quanti clienti Sì sì E il McDonald's è il migliore Beh no Il KFC è assolutamente da provare Super buono il pollo Buongiorno Io vorrei allora un Crispy McBacon E una Coca Cola Grazie Ecco qua Coca Cola e Crispy McBacon Perfetto Grazie mille Ah che bello Ho proprio una grandissima fame Non vedo l'ora di mangiare Questo buonissimo Crispy McBacon Ah 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 Uno scarapaggio Cosa? Uno scarapaggio Sì Ah No Cioè C'è un errore Un attimo Non girerò mai più al McDonald's L'hai messo tu lo scarapaggio? Ehi no Non sono stato io Che schifo Adesso non tornerà più da te Lo sai? Lo so Opperei per la nuova bibita di Ninna e Matti Sì Proprio quella Ottima scelta La preparo subito Questa è la bibita più buona che esista Ovviamente solo dal KFC Guardate quanto è bella Guardate quanto è rossa Ed eccola qui Aspetta però Manca la cannuccia Lo voglio assaggiare subito perché ho tanta sete Che schifo È salata Com'è salata? L'hai messo tu il sale? Io? No L'hai messo tu lo scarapaggio? No Non l'ho messo io Ma com'è possibile? Aspetta Ma forse è stata Chiara Ecco a te Grazie mille Sono 150 euro Grazie È un petto Chiara sta guadagnando un sacco di soldi Quanti soldi? Forse dovrei allearmi con lei Arrivederci Minna cosa ci fai qua? Eh niente Stavo passando E ho visto che Gli affari vanno bene qua Che ne dici se ora Io e te Ci alleiamo Contro Matti E vi facciamo chiudere il KFC Sì Va bene Affare fatto? Sì Affare fatto Matti Hai bisogno di una vacanza Meglio che ti ripodi Sì Ti vediamo un po' stanco in questi giorni Vai in vacanza Ci pensiamo noi Ma io devo portare avanti il mio negozio No no Ci siamo noi Ma ve ne occupate voi quindi Siete sicure? Facciamo noi tranquillo Dovete servire i clienti alla perfezione Certo Ok allora Ecco Mettiti quelli Quella cosa io non me la metto Vai Dobbiamo rubare qualcosa No Ora dobbiamo togliere tutto quello che Matti ha Sì Mi piace Cosa? Ma dove sono finite tutte le mie cose? Il mio ristorante Il mio KFC Linda Chiara Ma che avete combinato? Se vuoi fare parte del Burger King Ti metterò la corona Grazie Quindi ora sono ufficialmente assunta? Sì Sei assunta Oh che bello Anch'io lavoro al Burger King Ora dobbiamo contare i soldi Ok 50 Aspetta 100 Aspetta 50 Aspetta Ok 200 Aspetta Sono troppi Loro due si divertono E guadagnano tanti soldi con il Burger King E io Io invece non ho più nulla Non è giusto Poverino Poverino Chiara Guarda Sta piangendo Sì Fa un po' pena Forse siamo state un po' troppo cattive No Non siamo state troppo cattive Fidati Ok Buongiorno Ciao Matti Io Io non ho più un lavoro ormai Eh Io invece lavoro da Burger King Quindi Ti sei unita a lei? Sì Mi avete lasciato tutti da solo E mi avete fatto valire pure il ristorante Un secondo Ok Senti Matti Possiamo offrirti un lavoro Ti va? Cosa? Davvero? E cosa devo fare? Devi metterti questa prima di tutto Ok Grazie Ecco qua Matti Ora sei ufficialmente assunto al Burger King Al Burger King? Quindi devo lavorare insieme a voi? Esatto Sei pronto? Che bello Che cosa devo fare? Dai Non vedo l'ora Matti tu devi preparare un tosse speciale Dimmi Vatti Vado Te devi preparare un panino Panino Ok Ciao Buongiorno Buongiorno Sì Allora tu che vuoi? Allora io un tosse speciale grazie Questo Sbaglia No Ma non ci fa così E io un King Burger Ok Matti un King Burger Oh Ma ce ne ho? Muoteteli Ah non mi ricordo come si fa È troppo difficile lavorare al Burger King Allora therefore Allora